I soldi per il pontile di Roseto degli Abruzzi non bastano, a dirlo il sindaco Mario Nunez. In un'ottica di rilancio del turismo il cantiere era stato aperto in Pompamagna a fine marzo di quest'anno. Il finanziamento da un milione di euro dell'ex giunta regionale targata da Alfonso però non basterebbe al completamento dell'opera. Per questo il primo cittadino ha chiesto ulteriori 500 mila euro alla regione. Grazie all'intervento della mia amministrazione da subito abbiamo fatto un'anticipazione di cassa per permettere all'impresa di proseguire in maniera celere i lavori di consolidamento. Come detto in maniera trasparente in campagna elettorale, forse comunicato male dalla precedente amministrazione, il fondo e l'investimento sarà sufficiente solo per il consolidamento e la messa in sicurezza del pontile stesso. Per poter completare e fare un progetto come abbiamo noi annunciato in campagna elettorale, un pontile della famiglia, un pontile dell'amore, un pontile che possa nella parte superiore raccogliere eventi, c'è bisogno di un ulteriore finanziamento. Non abbiamo perso tempo e durante il primo consiglio comunale presso il Palasport ho consegnato personalmente al presidente Marsiglio, in quanto responsabile della regione che è titolare del primo finanziamento che abbiamo ottenuto, un'ulteriore richiesta di finanziamento di 500 mila euro per poter progettare e poi realizzare il completamento del pontile stesso. Per quanto riguarda le altre opere del comune del Teramano, ad inizio settimana il primo cittadino ha incontrato il presidente della provincia di Bonaventura. I due si sono confrontati su viabilità, edilizia scolastica e interventi di messa in sicurezza. Abbiamo parlato di viabilità, di alcuni interventi sulla SP19B, di collegamento tra la SP19 e l'Istituto Moretti, abbiamo parlato della SP20 di Colonia Paese, abbiamo parlato della messa in sicurezza dei tratti urbani abitati della provincia stessa e ovviamente massima disponibilità del presidente degli uffici a mettere a disposizione somme da qui ai primi mesi del 2022. Poi abbiamo spostato l'attenzione anche su quelle opere strutturali, strategiche, che purtroppo da tempo sono fermi sul territorio, il braccio a mare del porto turistico e il ponte circolo predonale. Su entrambi c'è massima volontà di accelerare i tempi e confidiamo, soprattutto per il ponte circolo predonale, di avere una risposta quasi immediata entro fine anno, al massimo nei primi mesi del 2022. Per quanto riguarda il braccio a mare, siamo in costante rapporto con la ditta appaltatrice, che avendo ricevuto i giusti pagamenti dall'ente committente della provincia, ora ha il dovere morale ma anche economico di portare a termine i lavori. Insomma massima sinergia, massima attenzione, anche rispetto al polo liceale abbiamo iniziato un discorso, la provincia ha dei fondi, come sapete, a disposizione per le scuole superiori. Noi come comune abbiamo il dovere finalmente di mettere a disposizione un'area, ma anche di mettere attorno a un tavolo tutte le parti sociali, i giovani, i dirigenti scolastici, i cittadini e anche coloro che avranno interesse che questo polo abbia una zona e abbia uno sviluppo moderno, una scuola che nel 2021 non può più essere una scuola dislocata in tante parti del territorio.